Uomini e donne devono condividere lo stesso bagno nel reparto di medicina dell'ospedale di Sulmona e scoppia la polemica. La raffica di segnalazioni da parte degli utenti è arrivata anche all'asla Vezzano Sumona L'Aquila e al suo direttore generale Rinaldo Tordera, dopo che in più di una circostanza i pazienti hanno manifestato disagio e imbarazzo per una situazione che impone un ripensamento alla luce delle diverse esigenze fisiologiche degli utenti che subentrano nel corso di particolari degenze o immediatamente dopo delicati interventi. È una situazione che ci espone dei evidenti disagi, soprattutto le donne che per natura hanno delle esigenze diverse e una convivenza di questo tipo toglie una certa serenità alla degenza che dovrebbe essere insita al contrario di un ospedale attrattivo, fanno notare in coro alcuni degenti. Immediatamente è scattata la segnalazione all'azienda sanitaria che avrebbe invitato gli utenti ad armarsi di pazienza fino all'inaugurazione del nuovo corpo ospedaliero. Lì la collocazione dei servizi igienici sarà suddivisa per genere in tutti i reparti, onde evitare situazioni particolari spiacevoli che non possono passare in sordina, perché tutte le problematiche vanno segnalate, affrontate e risolte, ancor più quelle che creano un evidente disagio.